Parliamo di calcio, seconda divisione finisce con un pareggio, la partita tra l'FC Alto Adige-Suttirol e la capolista Pavia. Bella prestazione per l'FC Suttirol-Alto Adige contro la capolista Pavia, ma la partita allo stadio Druso di Bolzano finisce con un pareggio. È stato un match davvero entusiasmante, 90 minuti a vincenti alla fine, il pari 1-1 forse è stato il risultato più giusto, con i biancorossi che hanno giocato meglio nel primo tempo e gli ospiti più determinati nella ripresa. A sbloccare il risultato il rigore concesso dall'arbitro all'Alto Adige al 22esimo del primo tempo, siglato da Scavone, un penalty causato da un fallo di riccio su un albanese lanciato a rete. Poi il mister Sebastiani ha cambiato modulo, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1, spostando Scavone in avanti, probabilmente con l'obiettivo di aumentare la qualità in avanti per provare a chiudere la partita. Questo modulo ha però scoperto la difesa e le azioni pericolose della Pavia sono aumentate. A 5 minuti dal fischio d'inizio del secondo tempo, per i biancorossi è arrivata la doccia fredda, la difesa si è trovata scoperta su una palla persa a metà campo, Zomera è scivolato su una morbida incornata di Ferretti e la palombella dell'attaccante Pavese è terminata nel sacco, pareggiando i conti.